Sono quattro le persone arrestate in flagranza di reato dai carabinieri di Palma di Montechiaro nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di Giuseppe Faraci, 32 anni, già ai domiciliari per scontare una pena inflittagli precedentemente, Davide Faraci, 21enne, Carmelo Leonardi, 20enne e Marco Burgio, di 37 anni, tutti ligatesi, già noti alle forze dell'ordine. Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il reato ipotizzato dagli investigatori al loro carico, si legge nel comunicato emesso dalla sala stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, in quanto durante una perquisizione, sfruttando autonomo patrimonio informativo, nell'abitazione di uno dei quattro i militari della città del Gattopardo hanno rinvenuto 25 grammi di marijuana confezionata in 20 dosi, un involucro di cellofan contenenti 35 grammi di analoga sostanza, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario evidentemente utilizzato per la confezione delle dosi da piazzare sul mercato. Sequestrata dai Carabinieri è anche la somma di 275 euro, ritenuta ricavo di precedente attività di vendita di droga. I quattro arrestati ora si trovano ai domiciliari nelle rispettive abitazioni a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.